Amy è in crisi con Ben. Lo sappiamo tutti e due che è finita. Che vuole stare con Grace. Tu sei speciale, l'ho pensato fin della prima volta che ti ho visto. Che non è più amica di Adrian. Lasciami in pace! Che è in crisi con Ricky. Volevi farmi licenziare e sfrattare? Ti sbagli. Che ci riprova con Amy. Dai, ci riprocchiamo. C'è un'età in cui ogni istante è vissuto intensamente. La vita segreta di una teenager americana. La quarta stagione. Da lunedì al venerdì alle 18.30 su Fox. La vita segreta di un'età in cui è finita.